Di Daesh, confermato l'undici che ha perso la scorsa settimana, 1-0 contro lo Swansea, giocando comunque molto bene. Eton tra i pali, difesa 4 con Trippier, Tuff, Shekel e Mee. Centrocampo a 4 con Harfield e Taylor sulle corsie, Marnie e Jones in mezzo. Jutkevic e Ings, il capocannoniere, con 21 gol della scorsa stagione del Burley là davanti. Lo United con il 3-5-2 con cui Van Gala ha giocato al Mondiale con l'Olanda, con cui ha voluto iniziare la sua avventura lo United. Davanti a De Gea, i tre dietro, Jones, Evans e Blackett. Valencia da una parte, Young dall'altra, Fletcher, che oggi dovrà avere 15 polmoni, correrà per tutti con Mata e Di Maria. Bampersi e Rooney là davanti.